Non sono mancate di certo le polemiche dopo la presentazione da parte della Comune di Matera della progetto Parco del Campo, stadio 21 settembre Franco Salerno, tra le ultime in ordine cronologico quelle contenute nella nota di Eustachio Follia, coordinatore regionale Volt Basilicata, il quale pone l'accento su quella che è stata a suo parere una oggettiva mancanza di rappresentatività e coinvolgimento della comunità nel processo che ha portato alla definizione della soluzione definitiva, a maggior ragione dice trattandosi di una simbolo per Matera, una cattedrale che riflette l'identità e i valori di un popolo. Perché, per esempio, suggerisce Follia, non integrare le funzioni dello stadio con l'area della ex barilla, con una serie di altre attività collaterali, culturali e di intrattenimento. La preghiera che il numero uno di Volt rivolge agli amministratori è quella di fermare il progetto ed aprire il confronto. Non meno piccato è il messaggio inviato da Pasquale Doria, consigliere comunale di opposizione in forza a Matera Civica, il quale chiede conto innanzitutto degli evidenti ritardi che hanno portato all'adozione del primo concreto atto amministrativo solo il 5 dicembre 2022, posto che la data di assegnazione del finanziamento della PNRR, 12 milioni e 650 mila euro, risale al 30 dicembre 2021. I tempi residui per l'inizio dei lavori, puntualizza, ora sono davvero ristretti e si rischia la perdita dei finanziamenti. Poi anche lui sul tema della partecipazione sia dei cittadini che di quella di tecnici e ordini professionali al fine di superare le numerose criticità già rilevate nel progetto di fattibilità tecnico-economica, tra queste la finalizzazione dell'area e delle strutture per lo svolgimento delle competizioni calcistiche e di altri sport come schermo e pallavolo. Altra questione di assoluto rilievo da definire meglio, conclude Doria, è l'interconnessione con il quartiere Piccianello e con il resto della città, aspetti che riguardano le dichiarate finalità di rigenerazione urbana e riduzione delle condizioni di emarginazione e degrado sociale che il finanziamento PNRR esige.